Crisi economica e finanziaria, perdita del potere di acquisto delle pensioni, costi della politica e della burocrazia, evasione ed illusione fiscale. I nostri obiettivi? Eliminare gli sprechi e i privilegi, ridistribuire la ricchezza a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, rilanciare i consumi interni, migliorare i servizi ai cittadini, attuare politiche per il lavoro e l'occupazione, adottare misure per la crescita e lo sviluppo. Il nostro impegno cresce per far ripartire il Paese. Grazie per la visione!